Ma chi è? Valerio Lundini? Ma... È riuscita a fare l'ommaggio a Kiki D? Lelton John di Noandri Margherita Vicario Oh honey, fucking restless Baby, you're not that kind Don't go breakin' my heart Don't go breakin' my heart Oh ma si infilano ovunque, eh? I neri per caso Oh honey, when you knock on my door Intanto c'è un musical dietro Ebbene Certo Un po' incredibile, eh? Come è il tuo giorno Nobody knows it, nobody knows it Right from the start I give you my heart Oh, I give you my heart che voce abbiamo capito sai che il ton gion la chiudeva prima per dire è don gombre eh certo tanto forest è è il momento più bello di questo pezzo la fine al giallaffa show i neri per casa la margherita mi cari l'un di n in arte elton john mamma mia ragazzi ragazzi grazie grazie per averci regalato questo momento indimenticato grazie a te i neri sono già bravi di loro interminabile mi sembra più giusto però va bene sono bravi di loro ma voi avete impreziosito questo momento vestito sobrio ragazzi ma che bravura che professionalità che talento erano anni che non sentivo un pezzo così bello sono amplificatori per sentire meglio ah si sembrano quelli degli aerei va bene che bello belli da sentire ma anche da vedere chi più chi meno diciamo così in giro molto meno sapete come li chiamano in giro? come li chiamano? la bella e la bestia no ma tu scusa non ti offendi a essere chiamata la bestia forse è un bello così forse scusa forse si forse è confusso allora ragazzi so che tu sei in tour in tour ma noi lasceremo un alone di mistero no? no diciamolo che è molto no un po' dappertutto ne dico una per tutte il 3 dicembre a Milano all'Alcatraz per esempio ma è vicino a Forest sei invitato Marco fino a casa mia ma se vuoi siccome io conosco il tuo papà se vuoi puoi venire a dormire a casa mia che c'è un bel divano letto mio papà può venire va bene non ha capito no no ha capito benissimo ma proprio benissimo bene ragazzi posso invitarli qui l'invito è sempre aperto voi potete venire certo giusto bravo assolutamente quando volete mi casa tranne il lunedì perché lavoriamo ecco giusto siamo in onda il lunedì esatto tu hai da dire delle date io ho otto un pezzo di pianoforte no ma no vabbè ma è un mi un mi minore ma come un mi minore un mi minore quindi no io non ho date ci penso io lo rincolla bene i potenti mezzi di tv8 e sky1 perfetto non è rompere altro dicevi ai date no io non sono venuto in promozione di niente però a questo punto approfitto visto che sto qua approfitti cosa promuovo date che non faccio magari si muovono di conseguenza i locali ma sai che non è una brutta idea l'ha detto in tv 16 novembre stadio olimpico Roma bravo un timbasso proprio 17 novembre quindi il giorno dopo se la matematica mi ha d'aiuto allo stadio olimpico di Milano che non c'è che è San Siro che è San Siro va bene vediamo se succede il miracolo i miei vasco rossi già l'appascio